ciao ciao a tutti buonasera buonasera benvenuti chi c'è nessuno è sabato sera del 25 aprile sarete tutti fuori a mangiare un gelato con la famiglia giustamente siete tutti a fare la pizza siete tutti a fare la pizza dite la verità è arrivata ora la notifica anche a me fantastico quindi vi sta arrivando adesso la notifica buonasera chi sei chi sei ti vedo vi vedo siete due siete due buonasera ragazzi buonasera a tutti buonasera ciao mauretto siamo io e te possiamo telefonarci ciao ciao maria ciao aurora giusto ma comincia sempre così ciao antonella scusate se vi ho avvisato poco 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 tempo fa però ho avuto un piccolo spazio di tempo e zack sono arrivata ciao a tutti ciao laura ciao maria intanto vi dico che tra noi c'è anche mauro dei 50 questo in 55 se non conoscete questo spettacolare di canale di cucina cosa molto difficile che non lo conosciate andateli a vedere a questi due bravi ragazzi veramente poi anna lori maria manu silvia buonasera a tutti li segui e certo gabriele sta meglio arriva ora arriva e di là adesso sta arrivando ieri l'anno gli hanno rovistato nel torbido e adesso sta un pochino meglio è un po infastidito ha un po di nausea ciao paola io per fargliela passare gli ho fatti i biscotti oggi pomeriggio di un video che vedrete tra qualche giorno e qui e quindi è così giusto per infierire come state tutto bene grazie silvia e insomma brava dipende dai punti di vista ciao rita ciao cinzia tutto bene caterina ciao ben arrivata come state come è stato questo 25 aprile non è stata una grande liberazione oggi è moderatamente ammuffiti cosa aspetta moderatamente ammuffiti mi sono persa insomma ti vedo un po più serena sì perché dai ragazzi una è andata almeno gabriele è a posto diciamo così speriamo bene bene rita gabriele martedì alla prima medicazione vedremo cosa cosa ci dicono ragazzi non vi preoccupate non è nulla di pazzesco è una pistola sacro coach gea che però gabriele si porta presso da dieci anni nel senso è stato operato tre volte allora eleonora che fa in questa quarantena sto quasi ogni giorno con voi faccio fare i compitini a enzo mi dedico moltissimo ai ai canali eccolo qua chiedevano tutti di chiudi la porta poi arriva arriva eccolo adesso godervi il posto operazione il peggio è passato e insomma il peggio per noi ancora non è passato verrà la settimana prossima però dai ce la possiamo fare ce la possiamo fare anche io non sapevo rivedervi oggi nel senso che non era in preventivo perché gabriele non stava bene infatti adesso lui si metterà al lettuccio non ero in preventivo però ho detto ho uno spazietto ho finito di fare i biscotti ho messo sugli ingredienti per la pizza quindi ho detto ok ce l'ho ce l'ho un'oretta da passare con i ragazzi Anna ti dice buona guarigione ciao Valeria e c'è anche Mauro che ci guarda salutalo ciao a tutti e quindi insomma tutto qua niente che dire ho detto approfitto faccio un video e non banna nessuno aspetta non sta così male anzi forse il suo spirito da bannatore sia ancora più acuito esacerbato pizza stasera sì sto facendo i calzoni buoni grazie Rita è bello sapere che sono di famiglia con noi con voi mi svago è vero adesso oggi parliamo però anche un pochettino di beauty sono qui nel frattempo lavoro mi fate compagnia tipo radio bene una buona stazione Mauro buona la pizza noi faremo i calzoni fantastico grazie mi raccomando se no quello comincia domani che ricetta domani una ricetta buona una ricetta molto buona molto buona molto buona che vedrete domani non è tanto importante la ricetta perché la ricetta tra l'altro è ispirata vi lascio tutto come al solito nell'info box a cose che ho visto tra cui anche una cosa simile ma non uguale che ho visto da Mauro e Antonio però perché mi ha fatto gol e l'ho voluta riprodurre a modo mio però non è tanto mi interessa sapere la ricetta in sé quanto una tipologia una tipologia di video no siamo curiosi dai ora domani lo vedi domani lo vedi a me interessa che voi mi diciate cosa pensate di questa tipologia di video i video che seguiranno per le prossime settimane su 2quare1k saranno di tipologie diversi quindi di format allora che ne penso delle farine proteiche ho visto il tuo video sul pane nuvola e vorrei approfondire io allora ragazzi non sono un medico non sono un nutrizionista e non sono un dietologo ora vi parlerò di quello che penso però non è attendibile perché è quello che pensa una come voi quindi vi stavo dicendo domani un video molto particolare che non avete mai visto su 2quare1k ripeto non per il contenuto quanto per il format la prossima volta ciao Elisa un altro video con un altro format e voi poi mi farete sapere tra i commenti se vi piace se non vi piace se non vi piace non vi preoccupate perché non voglio fare video solo in un modo mi piace variare anche a seconda dei contenuti della ricetta ci sono delle ricette più moderne delle ricette più classiche che secondo me possono andare su dei format differenti quindi domani ditemi certo quello di domani sarà una sorpresa pazzesca perché sui miei canali un video come questo non l'ho mai fatto di nessun tipo e mai avrei pensato di farlo però siccome a me piacciono ho detto provo poi cos'altro mi avete chiesto cosa ne penso delle farine proteiche allora io delle farine proteiche intese come addizionate di proteine non forza con i pollici in su visto che ci sono solo 13 pollici in su voglio farvi notare no no mukbang no i mukbang mi sanno di volgare proprio è tutto quello che io rimprovero ad enzo il mukbang non potrei mai farlo perché a tavola a casa nostra basta mettere una videocamera avete il mukbang bello di quelli spinti con enzo che ha la cosa ancora di bambino che mangia così no e allora io lo rimprovero in continuazione figuratevi che noi cessiamo di mangiare e ci mettiamo tutti a guardarlo così poi lui si accorge di essere osservato e allora chiude la bocca perché proprio non se può non se può il mukbang no non è una tipologia di video che mi fa venire voglia di mangiare vedersi ingargarozzare tutte quelle cose senza neanche no il cibo è una cosa è un'arte anche il cibo il cibo non può essere fonte di sacrilegio mediatico nel senso che vi infilate in bocca qualunque cosa il cibo va gustato ha il suo rito non tutti i cibi possono essere associati tra loro non mi piace proprio una cosa secondo me passatemi il termine volgare ma proprio fa schifo vedersi a mio avviso invece quello di domani è una cosa un po più elegante però particolare quanti pollici insuscitano amore smettila questi pollici insuscitano 14 è stato un progresso poi su tutto ciò che è addizionato io non sono molto convinta e sull'uso smodato delle proteine il fatto che io faccia la pizza nuvola in un canale in cui ho un pubblico eterogeneo non significa che io mi nutra di pizza nuvola la mia alimentazione non è rispecchiata dal mio canale la mia personale invece quello che cuciniamo per la famiglia però io sull'uso smodato delle proteine dell'ultimo periodo non sono tanto d'accordo perché le proteine secondo me sono la no secondo me secondo l'istituto l'istituto che studia proprio tutte le malattie come il diabete il tumore gli infarti tutte le patologie più grandi c'è un bellissimo documentario su netflix che si chiama come si chiama which you eat which you eat mi pare si chiami that you eat non mi ricordo comunque quello che mangi o perché mangi non mi ricordo come si chiama in inglese con i sottotitoli dove vi spiega esattamente cosa fa l'assunzione delle proteine a questo poi se ve ne vorreste vedere un altro dove si spiega l'assunzione dello zucchero un altro dove si spiega l'assunzione dei troppi carboidrati ognuno dice la sua secondo me gli eccessi le diete iper di qualche cosa fanno tutte male secondo me un'alimentazione completa il vecchio di tutto un po' quello che facevano gli antichi considerando che però gli antichi non mangiano non mangiavano le schifezze si chiama what the health what the health è bellissimo questo documentario andatelo a vedere non mangerete più in pratica non mangerete più con lo stesso con la stessa consapevolezza senza la consapevolezza come state mangiando adesso cioè senza consapevolezza se non ne avete dando per scontato che uno non lo sappia però quello che vi voglio dire no io l'aggiunta proteica no tra la proteina di un legume e la proteina di una carne preferisco la proteina di un legume da sempre fermo restando che un'integrazione per la B12 ci vuole sempre quindi questo penso tutto ciò che è iper, super, light wow yeah nel cibo non esiste e fate chi si consola dicendo gli antichi la carne la mangiavano il pesce è un cibo fantastico le uova di qua e di là piuttosto che i grani piuttosto che gli zuccheri fate conto che quello che si mangiava prima della guerra o nel subito dopo guerra non è la stessa cosa che mangiamo adesso perché la richiesta è molto aumentata e quindi la produzione è fomentata da antibiotici da robe che pompano 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 la crescita e azzerano la perdita del prodotto industriale e di conseguenza non mangiamo cose buone anche il pesce pescato nel mare sotto casa siccome il pesce non è un animale stanziale ma per natura naviga nuota più che naviga mangia e assorbe tutto quello che dell'habitat che lo circonda plastiche mercurio metalli e tutto quello che c'è nell'acqua che fanno parte della loro carne se una riduzione di carboidrati utilizzando pasta o farine proteiche secondo te è positiva no Anna no perché il carboidrato lo smaltisci con una corsa la proteina si deposita nelle vene tra i tessuti ed è nutre qualunque tipo di cellula e la nutre nel senso che le dà mordente la carne rossa fa malissimo è meglio no guarda i polli credimi io ho visto gli allevamenti di polli in batteria sono agghiaccianti agghiaccianti se tu vedi quello che mangiano come sono messe quelle galline come rimani così pollo proprio non ne vuoi vedere più nella tua vita noi mangiamo con tranquillità perché nel banco della carne vediamo una carne rosea è un pollo bianco quasi in odore però sappiate che naturalmente la carne non è rosa la carne è rosa perché ci mettono i coloranti la carne che arriva sui nostri piatti fa parte di un corpo morto da almeno un mese e quindi quella carne se fosse lasciata naturale sarebbe marrone poi la le mettono acqua la lavorano in maniera tale da apparire belle appetibile ma è un'illusione è un'illusione è assolutamente un'illusione quella che mangiamo e in quell'illusione ci sono tante manipolazioni che bene bene non fanno e la carne bianca non è tanto migliore della carne rossa proprio la carne in sé come le uova come il pesce perché oramai i poverini quegli animali li abbiamo massacrati è colpa nostra i nostri nonni mangiavano la gallina dell'aia la prendevano c'erano pure affermi mi ricordo che mia mamma non mangia pollo vi racconto che mia mamma non mangia pollo perché lei giocava con le galline e poi la signora le tirava il collo e quindi quella ci rimaneva male e non mangia mai pollo non lo vuole neanche vedere da lontano però quello era il pollo vero quello che aveva il sapore di pollo e non aspetta adesso vi leggo e quindi mangiavano carne sana il vitello della propria tenuta a cui non date gli antibiotici a cui non date le farine animali perché cosa fanno per molti per esempio i maiali ci sono i maiali nella fattoria muoiono i maiali ok portano questi maiali a essere triturati li mischiano con altre cose e glieli danno da mangiare i maiali ma quella lavorazione non è una lavorazione tanto nobile del maiale quella che poi i maiali mangiano e siccome noi siamo ciò che mangiamo e mangiamo i maiali che sono ciò che mangiano capito è un po' uno schifo tutto l'industria alimentare molta molta parte dell'industria alimentare essere vegani qualcuno ci scriveva allora diventate vegani è una grande ambizione la nostra quella del diventare vegani so che nella pratica è assolutamente difficile io non voglio appartenere poi a una categoria io voglio mangiare ciò che mi piace ciò che non mi fa schifo che non mi ricorda grazie Patrizia che non mi ricorda cose brutte se io un giorno vorrò mangiare che ne so ecco tra tutte le cose quella che mi fa meno senso meno senso è il latte anche se fa male anche il latte perché noi siamo gli unici animali che beviamo il latte dopo lo svezzamento lo so benissimo tra l'altro beviamo il latte di altre specie animali parliamone però detto ciò se io avessi voglia di proteine opterei per un pezzo di parmigiano ecco nella mia testa non so perché sono protesa verso un pezzetto di parmigiano un grana padano punto per tutto il resto anche quando certo grana padano parmigiano reggiano anche quando lo mangio so che mi fa male ma ogni tanto lo mangio una domanda che non c'entra nulla con l'argomento era un po' che pensavo ma tu hai provato la piastra GHD no non l'ho mai provata mi spiace una piastra su youtube guardate il documento dominion in italiano lo guarderò volentieri io mangio poco volentieri proprio per quello che stai dicendo ok sì la mia non è proprio poi ci sono piatti anche di carne che mi piacciono dove la carne è molto mascherata ve li ho proposti anche sul canale infatti per esempio una delle mie carni preferite la carne alla pizzaiola dove la carne proprio non si sente ma la mia è proprio non mi piace proprio il sistema come viene come viene allevata la carne e in più è proprio una lobby la lobby delle industrie alimentari che è agganciata con la lobby della sanità mondiale che che portano avanti anche che ci fanno mangiare anche ciò che ci fa male ma non ci fa morire subito per nutrire le grandi aziende le grandi case farmaceutiche che così producono medicinali che ci portano avanti per 40 30 anni sempre con una pillola al giorno cosa che è innaturale io lo capisco che una volta si moriva più giovani ma oggi come oggi si potrebbe durare molto molto di più mangiando un po' molto meglio una domanda questo l'ho letto per i tumori è inviata il diaframma non ho capito Lucia Yolanda bisogna comprare bene solo si bisognerebbe farsi vi ricordate no vi ricordate no mia mamma sempre mi raccontava dell'orticello di guerra bisognerebbe farsi il proprio orticello di guerra sì Lucia è vero quindi la pasta fatta con farine proteiche a base di legumi ah queste farine proteiche Anna questa sì la puoi mangiare tranquillamente sono buonissime tra l'altro buonissimo parolone sono buone no pensavo siccome ci sono le paste tipo proteine con l'aggiunta di proteine derivate dalla soia attenti per esempio a tutte le proteine in molti beveroni in molte marche di cibi per proteici per esempio quelli che si addizionano nel nel latte per fare gli shaker per per quelli che fanno pesino sono proteine moltissime o in molti piani alimentari che derivano dalla soia ma la lavorazione della soia fa benissimo quando è mangiata soia germoglio ma tutti i derivati della soia non fanno tanto bene quindi attenzione a quando e quanta soia ingerite perché anche quelli fanno malissimo tutte queste bevande alla soia ma lì yogurt alla soia cotolette di soia tutto di soia cintura di soia giacca di soia fanno male la soia se la volete la prendete e la mangiate in germogli e basta è quello il modo per mangiare la soia il resto è tutto processato e fa malissimo la soia specialmente anche la frutta e la verdura sono colcimate quindi allora ragazzi stiamo sotto questo cielo dal peggio dobbiamo scegliere il meglio se ci va e non è sempre possibile io non dico che se andate a pranzo fuori quel pranzo vi ucciderà ma se mangiamo sempre facendo finta di non sapere perché facciamo finta diciamo la verità di non sapere cosa abbiamo sul piatto e allora è più probabile incappare in è vero non si può mangiare nulla Antonella hai perfettamente ragione uno non potrebbe mangiare assolutamente nulla ma perché perché siamo stati dei disgraziati abbiamo distrutto il mondo per la ricchezza di pochi abbiamo massacrato un pianeta e ora ne piangiamo le conseguenze non potremmo neanche bere nulla se è per questo perché l'acqua che beviamo parliamone perché noi ci adattiamo ci adattiamo però questo adattarsi provoca diversi acciacchini anche i cani quanti cani quanti dei vostri cani negli anni si sono ammalati di tumore quanti quanti negli ultimi anni ciao ombra a te mi sono promessa di comprare meno anche mangiare meno mi sembra che in occidente ci organizziamo eh sì a casa mia la frutta e la verdura si compra direttamente ottimo se si ha la possibilità nemmeno l'acqua è vero non credo solo che siamo troppi dobbiamo mangiare tutti sì ma quanto mangiamo Anna mangiamo a quattro ganasce come si suol dire siamo troppi e c'è un e siamo troppo ricchi nella parte del mondo che mangia perché non è che mangiamo tutti mangiamo solo noi occidentali e pochi altri sarebbe bello se il cibo prodotto fosse distribuito a tutta la popolazione mondiale ma purtroppo quella enorme quantità di cibo di cui se ne spreca il 40% viene mangiato solamente dalla parte ricca del mondo e c'è gente che oggi sta morendo letteralmente di fame morendo di fame ed è vergognoso mentre noi moriamo di ricchezza di troppo cibo vi rendete conto c'è una parte del mondo che non ha da mangiare è una parte del mondo che muore di infarto diabete colesterolo alto trigliceridi siamo delle bestie detto ciò io non voglio fare da maestrina a nessuno perché io sono la più bestia di tutte in tutta questa situazione che a moti alterni ho delle prese di coscienza che sono difficilissime da portare avanti perché la società non ti aiuti tu mori di tutto certo la società non aiuta completamente sei bombardato massacrato arrivano messaggi discrepanti da tutte le parti non c'è una linea guida comune quindi tutti i barcameni vai da 5 medici uno ti dice A o l'altro B l'altro C l'altro D l'altro E e poi c'è il naturalista che ti dice FGHI quindi non c'è nemmeno una deontologia unica da seguire mi dispiace Yolanda questo mi dispiace tanto mi dispiace e ti capisco ti capisco non per mia non fino adesso non credo su di me ma ti capisco capisco il peso che porti il fardello che porti mangia bene per esempio c'è una cura molto importante Yolanda mannaggia c'è una cura molto importante che fa un prete mi pare italiano non mi ricordo dove che dove appunto vengono eliminate ora però io non sono medico Yolanda credimi non seguire i miei consigli ma se ti vuoi informare anche di questo c'è questo medico che fa una cura base di aloe vera e proteine vegetali e basta e dice che funziona per molti io sono fortunata mi sono fatta un po' di orticello nel giardino ve lo consiglio è vero è vero l'orticello di guerra è fatto bene è bello perché il titolo dice prodotti finiti e io sto facendo un altro video fantastico il bello della diretta li volete fare i prodotti finiti o li facciamo un altro giorno ditemi ditemi li volete fare li facciamo un po' di cambiamo discorso tanto nella ricetta di domani per esempio ecco la ricetta di domani è tutto quello che non vi sto dicendo cioè tutto il contrario di quello che vi sto dicendo oggi proprio tutto il contrario tutto il contrario totalmente ok quindi io cucino per tutti per tutti voi che mi seguite non posso fare solo una cosa solo una cosa solo una cosa voi potete fare delle proposte di cucina che vi facciamo qualunque canale di cucina vi fa delle proposte di cucina le proposte di cucina sono delle idee che poi voi dovete adattare ai vostri alle vostre necessità ok quindi domani per esempio è una ricetta completamente lontana tipo stinco di maiale imbottito con carne tipo tipo non ci sta andando molto lontano però io non la faccio per me è solo per me è vero che l'abbiamo mangiata è vero però non mangiamo tutti i giorni questa roba era una ricetta che ho fatto per Pasquetta quindi pensateci nel senso non sempre così perché nel variegare sì è vero però tu non devi mettere in dubbio niente devi solamente per esempio secondo me un modo sano di vivere difficilissimo anche questo da perpetrare è il mangiare pulito si dice per cinque giorni la settimana e magari nel weekend concedersi quella sfiziosità quella cosa che magari si è lasciata da canto per tutta la settimana avere uno stile di vita morigerato cioè non tutto non sempre non quando ci va in questo senso allora per esempio i biscottini che vi ho fatto oggi sono biscottini da discorso di oggi e vanno sullo stesso canale cioè sani biscottini sani allora cominciamo cambiamo discorso passiamo più al femminile tanto ho visto tante donne e Mauro ci perdonerà tanto se mi segue sa che parlo anche di queste cose prodotti finiti ne parlo oggi perché poi nei prossimi giorni non so se avrò il tempo di parlare dei prodotti finiti e allora cominciamo subito e ora qua cominciamo con un altro prodotto cominciamo subito prodotti finiti questo mese due bottiglie di alcol chissà perché chissà com'è chissà cos'è allora è un prodotto finiti ai tempi del covid quindi due belle bottiglione di alcol per fare le mie salviette disinfettanti che sono state veramente veramente utilissime a Gabriele quando uscivamo per quando usciva uscivamo chi io non esco da due mesi quando usciva per le commissioni per pulire quando tornava per pulire io ci pulisco anche la spesa insomma un po' di cose ok poi 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 alcol questo qui normale denaturato etilico non da passarsi in faccia ovviamente poi 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 vi dà honey and vanilla questo qui questo prodottino qui per disinfettare che costa niente tipo un euro e diciannove io l'ho preso su amazon un profumo meraviglioso di dolcetto sfizioso ma veramente buono è un profumo un po' invernale ma qui la primavera stenta ad arrivare ma è una crema alla vaniglia buoni ah lo conosci Manu è buonissimo come profumo ve lo consiglio perché poi lascia la pelle idratata e anche un po' profumata per la prima mezz'ora dopo la doccia perché almeno io parlo per la mia pelle sulla mia pelle i profumi dei bagnoschiuma non pervenuti cioè li sento sotto la doccia e poi ciao questo invece rimane per un po' è veramente buono si Trump fa questo e fa per questo che i capelli crescono di quel colore allora dopodiché dopodiché ho finito l'acqua micellare tutti in uno di licia questa signori miei io la boccio la boccio perché brucia gli occhi in maniera indegna io quando uso un'acqua micellare la utilizzo per tutto ha un potere struccante medio alto non altissimo la Garnier è di gran lunga superiore ok e quindi questa qui veramente non non ci siamo non ci siamo non la ricomprerò mi brucia proprio da morire da morire poi 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 ci lavi i pennelli ecco un'ottima soluzione ho finito purtroppo lui il keratin ecco non strucca e brucia esatto il keratin oil oddio il trucco del viso lo strucca non strucca cioè devi insistere sugli occhi insistendo sugli occhi brucia il keratin oil della OGX insomma questi sono la mia nuova droga cosmetica sono veramente degli shampoo e del balsamo che fanno ciò che promettono a livello di inci non sono puliti credo che contengano siliconi non li ho neanche letti perché ragazzi non li ho letti perché sono scritti così sfido chiunque a leggere cioè voi li leggete siete attaccati sono scritti le formiche li possono leggere quelle che non sono presi e quindi non ci ho neanche perso tempo perché tanto a me servivano perché veramente quello che dice che liscia il capello liscia il capello quello che dice che tiene il riccio al capello riccia arriccia il capello questo che dice che non fa spezzare i capelli non fa spezzare i capelli quindi in un momento di sfacelo totale che ho passato e che sto recuperando sui miei capelli non mi interessava tanto ciò che ci mettevo quanto che quello che ci mettevo facesse ciò che diceva e loro lo fanno 7,50 euro a bocettina 385 ml di un prodotto che però dura veramente a lungo perché è molto concentrato molto denso io lo prendevo alla Oshan ora lo prenderò su Amazon li ho visti vi metto il link qua sotto ci sono per tutte le tipologie di capelli e per tutte le esigenze e quelli che io ne ho provati in tre sì in tre differenti in quattro differenti colori ho provato il viola e il fucsia il dorato e il bianco quello al cocco sono uno meglio dell'altro veramente il mio preferito è quello dorato perché lascia il capello liscio però è anche quello che appesantisce di più si chiama OGX ve lo faccio vedere sì lo so poi ho deciso di farmeli fare bianchi e me li hanno spennati tipo gallina in batteria vedi sopra allora così sì sì me li sono rovinati io i capelli non do la colpa a nessuno per mia volontà però guardate fino a qui ormai sono bellissimi ora dobbiamo aspettare un altro annetto il tempo che crescano allora abbiamo pazienza ho finito il mio fedele compagno di avventure il cn hot pink deodorante del lidl un bottiglione da 200 ml poco più di un euro ora ragazzi questo io non lo riesco a sostituire con nessun deodorante zero sali di alluminio veramente resistente qua dice durata 24 ore io onestamente non ho mai testato non lo so devi andare a vedere devi andare a vedere forse uno bello idratante o volumizzante ci sarà è buonissimo 24 ore non l'ho mai testato ma 10 ore senza lavarmi capita che senza lavarmi le ascelle capita che ci sia quindi vi posso assicurare che anche con 45 gradi estivi lui non vi fa puzzare provato hai sentito parlare della dieta gruppo si va bene queste cose non le no il dottor Mozzi non ha la mia stima allora non mi piace non mi piace già che mi parlano della dieta del gruppo sanguigno no non capisci che è una cosa costruita non può esserci una dieta del gruppo sanguigno no no non mi piace allora poi ne parliamo finito chili chili ve la ricordate la pubblicità di questo che idiota la pubblicità di questo io uso solo i DAV quelli grigi da uomo sono i migliori non hanno tutte le proporzioni maschili ok ma contengono sali di alluminio perché lo uso senza sali di alluminio lui chili buono non mi fa impazzire sinceramente non ricordo neanche escono ancora le bollicine la profumazione è gradevole la profumazione è gradevole però io mi ricordo che tempo fa ne provai uno verde della chili e lasciava una piacevole sensazione di freschezza ora non voglio addentrarmi molto in questi discorsi specialmente in diretta però questo quello di menta può essere ops questo ora vedete tutte le volte che mi cadono i prodotti mentre faccio mentre registro i video dei prodotti finiti tipo 100 e questo così senza infamia e senza lode non mi ha non mi ha dato niente li contengono allora no non li uso ah ecco queste sono le salviettine con cui ho utilizzato questo vedete io metto sopra alcol alcol allora queste sono buone già salviettine di loro io ho le addizioni di acqua micellare e mi ci strucco oppure le addizioni di alcol e le uso per pulire i guanti pulire la spesa pulire le mani se sono fuori alla spicciola e non posso non ho altro pulire lo sterzo della macchina pulire l'asta del carrello tutte quelle cose che mi serve disinfettare con qualcosa che non mi uccida poi dopo perché se le facciamo con le salviette detergenti non è proprio una cosa che la mano deve toccare invece così hanno l'emolienza di tutte le cose contenute nelle salviette più il potere disinfettante dell'alcol che essendo diluito con quello che c'è dentro le salviette viene in una soluzione tipo al 60% 60-70 è disinfetta perché ricordatevi che l'alcol va diluito così non disinfetta se voi vi buttate l'alcol così non vi disinfetta perché non attacca le proteine che avete sulle mani se invece lo diluite quell'acqua fa sì che lui tolga via tutto allora qui invece sono le mie salviettine preferite le lupilu o lupilu o lupilu non lo so come si chiamano hanno un nome assurdo ciao e sta bene sta bene sono buonissime queste sia più alcol vanno benissimo le ho anche che con acqua micellare non questa ma tipo l'acqua micellare della Garnier la versi qua dentro tipo un terzo di boccetta e ti strucchi in un attimo proprio porta via trucco velocemente se subito e poi affondo poi questo lo lascio per ultimo questo lascio per ultimo poi ho finito due e dico due queste le conservo però confezioni di gel disinfettante quello che avevo fatto nel video appunto del gel disinfettante ve lo metto qua le abbiamo fatte fuori perché devo dire che molte volte anche a casa specie con Enzo che è un pigro ragazzi ma un pigro per lavarsi fa ah per esempio queste salvettine con l'alcol io le uso moltissimo per pulire anche i dispositivi di Enzo carini veri questi vengono da Disneyland questo ci pulisco il tablet di Enzo il cellulare quando ce l'ho a portare di mano salvietta alcol e viene pulitissimo non rimane appiccicoso niente e molto spesso a casa in questo periodo per Enzo ho utilizzato questa perché Enzo sta botte di ore senza lavarsi le mani e smanettando anche non sta botte di ore smanettando non lavandosi le mani e poi magari va a smanettare un po' con i dispositivi e quindi o con il telecomando sapete ecco e io dico lavati le mani lavati le mani ogni tanto passavo e andavo a pulirle io di forza ho finito il colgate senza infamie senza lote per fare la rima cavi di protection carie dentifricio adesso ne sto usando uno buonissimo di cui parlerò il mese prossimo veramente buono col fatto che non vado più a fare la spesa io ma me la faccio portare a casa chiama al supermercato e naturalmente la signorina quando io dico dentifricio mi manda il migliore il dentifricio da 5 euro certo ovviamente e quindi ho provato però veramente li vale nel senso che un domani nell'ottica è veramente buono è un elmets mi pare si chiami però poi ve ne parlo questo è buono costa 1 euro e 20 e fa il suo dovere cioè vi infresca l'alito perché questo fa il dentifricio il dentifricio non fa diventare i denti bianchi il dentifricio non fa passare le carie il dentifricio non abbatte il tartaro il dentifricio non toglie il tartaro è il mex mi pare non mi ricordo però ecco brava Mariana quello Mariana però il dentifricio deve fare sì che uno si lavi i denti piacevolmente se uno ci rimette la lingua mentre si lava i denti ho un problema enorme con il dentifricio perché pizzicano troppo e se mi comincio a bruciare la lingua vado di fretta perché mi brucia la lingua quindi non sto tanto a pulirli invece da quando uso dentifrici con un grado di mentolato idoneo alle mie rarille gustative posso stare anche più tempo a pulire perché a me proprio la lingua ragazzi non so a voi ma a me mi si buca con i dentifrici aggressivi proprio mi rimangono le placchette ciao Yolanda allora Yolanda mi raccomando stai su e sii forte è tornato la seconda volta se ne andrà per la seconda volta allora il menta denta al cocco io sono resti ai dentifrici che hanno un altro sapore della menta non lo so perché sono abitudinaria però potrò provarlo vediamo ho conservato per ultimo il pezzo per cui io adesso vorrei fare un minuto di silenzio una domanda ma se siamo sempre dentro casa secondo me c'è la necessità di disinfettare sempre tutto sai cosa io penso che non è tanto la necessità di disinfettare tutto è quanto istillare l'abitudine a disinfettare perché adesso siamo dentro casa ma se Enzo non impara adesso a mettersi lì ogni ora a passarsi quando esce non lo farà se lo dimenticherà invece io credo che già cominciare a fare palestra in questo periodo per le abitudini fermo restando che Gabriele esce quindi per esempio poi tocca i dispositivi che tocco pure io quindi io li disinfetto ogni giorno in modo che siamo un pochettino più sicuri non è una casa stavo dicendo non è una casa chiusa questa ebbene neanche quello non è una casa chiusa però non è una casa che rimane totalmente chiusa ma è una casa dove un individuo quello quello è un individuo saluta un individuo un individuo esce e quindi è bene comunque sempre rinfrescare in più ho un bambino che spero di far uscire prima o poi da casa e quindi voglio abituarlo all'idea che non è più come prima e poi cos'altro vi devo dire mi ha distratto l'individuo e poi per esempio ieri l'altro ieri è uscita anche la mia mamma l'altro ieri siamo usciti un po' tutti perché siamo andati a perdere gli accertamenti quindi insomma cioè siamo usciti io prima è uscito Gabriele poi sono uscita io e mia mamma quindi siamo dovuti uscire e di conseguenza è meglio disinfettare ora poi 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 andiamo vado perché sono sempre un passo avanti che ho fatto stavolta dovrebbe entrare un'abitudine sempre anche dopo il colore mio sì grazie Stefania ah lui è sempre un passo avanti eh sì è bello non lo so tu così sei nato un passo avanti mamma per adesso falla stare in casa mi sembra dopo questo no Rita mamma è dovuta uscire per forza purtroppo purtroppo adesso vi faccio vedere il una cosa che ho adorato ho adorato minuto di silenzio perché è finita e non so più dove prenderla quindi sono veramente addolorata no no quella no è lei è la Novage Intensive Skin Recharge Overnight Mask di Oriflame ecco qua ah io ok noi invece dobbiamo abituarci Stefi questa qui ragazzi era una maschera per la notte che si usava come una crema voi mettevate questa no io mettevo questa su prima di andare a letto finita completamente il barattolo è molto carino la la mettevo prima di andare a letto a parte il fatto il profumo ma no peccato che youtube ancora non abbia inventato la funzione olfattiva che ti concilia proprio odori e vedi nuvolette di zucchero filato angioletti paffuti che ti dicono forza dormi è bellissimo buonissimo è buonissimo ma poi la cosa bellissima di questa crema di questa maschera è innanzitutto che è una maschera asciutta cioè voi la mettete come una crema e non andate a letto unte come delle foche quindi vostro marito vi va un bacio non sguisciate via dalle sue mani perché riesce a trattenervi e poi tra le altre cose rimpolpa leviga nutre profondamente e sopra no 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 non macchia niente questo sto dicendo e l'effetto al mattino era di questa radioso l'unica cosa di cui mi sono accorta perché mi piaceva tanto che a volte ne abusavo la mettevo ogni sera no lei voleva essere messa soltanto quattro notti a settimana perché poi troppo era too much veniva fuori qualche brufolino se la mettevate sette notti su sette ma quattro notti su sette una notte sì una notte no era il suo giusto quantitativo di Uda Beauty no non l'ho provato l'ho scrabbiso hai provato il guanto struccante sì è ottimo ho trovato ho provato anche il guanto scrabbante che è fantastico questa si chiama vi faccio vedere è lei Novage lo leggete qui sul tappo e la marca è Oriflame è un marchio mi pare del nord Europa allora questa me la mandò la rappresentante della Novage e ai siliconi pochissimi 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 mi pare li abbia ma pochissimi quanto costa sui 30 euro credo ed era è svedese io ho dato ho regalato a una mia carissima amica a Daniela a cui ho detto poi di ridarmi le boccette la crema notte e la crema giorno perché c'è stato un momento in cui il mio cassetto brulicava di creme notte e giorno io dovevo scegliere avevo in uso le creme della Florence Organics che mi piacciono tantissimo quindi la consiglieresti a una ragazza sui 25 anni sì però è molto cioè la consiglierei di più a una ragazza sui 35-40 nel senso che a 25 anni una potenza così non c'è bisogno a meno che non abbia un viso molto segnato io però adesso mi trovo bene con la linea Yves Rocher tutte le altre cose mi arrossano la pelle e la ungono oppure non fanno nulla allora ragazzi io prestissimo vi parlerò del siero che ho trovato nella box di look di look fantastic box box tutte queste sembro quello dell'aereo più pazzo del mondo che lui imita benissimo allora quel siero ah che dice amore quel siero idratante è una roba da quando lo uso quel sierino lì è una roba pazzesca costa ho visto 70 euro a boccetta io ne ho 20 ml li sto tenendo tipo reliquia ma li sto mettendo ogni giorno in questo periodo a parte la zanzara maledetta una pelle pazzesca e ve ne parlo come tra i super preferiti del della decennio di quel siero fatemelo provare ancora un po' che non escano magagne dopodiché ve ne parlo e vi dico bene bene non so la mia pelle ama i sieri la mia pelle ama i sieri e le maschere notturne è del tutto indifferente alle creme da giorno ma sieri e maschere notturne la mia pelle ne va a ghiotta cioè voi dovete anche imparare a vedere qual è la parte della skin care routine più efficace per il vostro tipo di pelle per la mia pelle le due cose fondamentali sono il siero ma ombretta ma senza Gabriele chi ricorda di mettere i like ci provo io ragazzi mettiamo i like grazie Fiorenzo e niente quindi state a guardare anche quello che la vostra pelle assorbe meglio quello che non rigetta soprattutto perché da quello vi accorgete se un se un elemento della skin care fa al caso vostro per esempio io nella mia routine skin care non potrei mai più fare a meno dell'essenza quella che faccio io in casa quella è una manna dal cielo mattina e sera veramente fantastica vi metto qua no vi posso mettere qua i link per adesso comunque cercatela cercate mettete sulla barra di ricerca ombretta e senza viso e vi spunte il video oppure ombretta siero vitamina c e vi spunterà il video in cui parlo del mio siero preferito alla vitamina c poi il siero alla vitamina c di florence cosmetics è meraviglioso vero è meraviglioso quello proprio disseta la pelle e adesso su quello sto mettendo questo sierino che ha un nome in pronuncia laslo laslo non mi ricordo cosa un nome impronunciabile ed è una sorta un'acqua idratante ed è gelosa questo questo della laslo non mi ricordo cosa è quello della florence organics usa questi due in combo sono spettacolari per la notte io utilizzo certe volte anche il siero molto spesso l'advanced night repair di estel order è molto buono è molto buono però è molto costoso e io ce l'ho perché me lo hanno mandato ma tra l'advanced night repair e questa io provo molto più godimento quindi molta più costanza perché poi qual è anche il trucco trovare una cosa che vi invogli ad essere messa e quindi che poi non trascuriate io questa proprio avevo voglia di metterle in viso il siero della come si chiama l'ho detto cinque minuti fa sì è buono della no 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 è bene comunque il siero dell'estel order è ottimo 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 però non è che il mio prensiero prima di andare a letto metterlo allora vediamo le domande Rita per me l'acqua distillata alle rose ottima ed è la base della mia essenza la mia essenza è acqua distillata alle rose gel di aloe e qualche olio essenziale ed è fantastico che scrub per il viso usi sto usando uno scrub che ho preso su amazon alla pesca ed è molto buono e si chiama è uno scrub vecchissimo e si chiama no signor il santiv santiv è molto buono è uno scrub vecchio stile sapete quelli con il nocciolo di pesca ecco santivi no santiv allora ciao ombrette Gabriele va bene giusi ci sei fresca dopo essermi lavata viso con quest'acqua fa davvero differenza da passacreme giusto io non riesco ad essere costante e devi trovare il prodotto grazie ombrette sei rimasta sempre la stessa genuina simpatica gentile mi sta tenendo compagnia durante il mio turno di guardia faccio parte delle forze dell'ordine forza giusi forza allora me l'ha fatta scoprire ah perfetto è visto santiv brava brava valeria sei attenta io uso il gel di aloe e la sbc lo conosci no si forse ho visto la confezione ma non lo conosco sulla pelle ombrette i sieri vanno bene solo da 40 8 m su scisa che allora fiorenza ombrette i sieri vanno bene solo dai 40 provato un siero e non ci capisco nulla non ho capito la seconda sto usando il campioncino che sa di panforte e non scherzo buono se ti scrivi hai il 20% di sconto e compri direttamente dal sito maria di che parli allora scusa le 40 in su allora no i sieri non vanno soltanto dai 40 in su assolutamente ci sono diversi tipi di sieri ci sono sieri più booster più che apportano di più al viso e sieri più discreti devi vedere qual è il tuo audio di flame dici è buonissima non è vero io ho 28 anni sì i sieri fanno la differenza però un siero che usa una donna di 40 anni non deve essere lo stesso siero che usa una donna di 30 anni perché se no quando avete 60 anni dovete usare un siero bestiale un siero d'Atalanta non troppo forte quale può essere allora per esempio il siero la vitamina C quello di Florence per me secondo me va bene per tutti però perché è un apporto di nutriente di vitamina C però se voi cercate un siero per le prime rughette un idratante un idratante io ho usato questo della Oriflame era buono non mi ha fatto impazzire io non lo so fino fatemi pensare un siero buono niente io li conosco tutti i belli potenti i sieri sinceramente li conosco tutti i belli potenti un siero leggero non te lo so non te lo so indicare non te lo so indicare un siero leggero no siero per siero se devi spendere se devi spendere un siero potente questo di Laslo non mi ricordo come si chiama è fantastico se no se vuoi semplicemente un booster anche quelli di Claren di Claren sono buoni ma se vuoi un booster comprati questa la vitamina C spendi 19 euro 18 euro ed è veramente fantastico però non ha una consistenza viscosa ha una consistenza assolutamente liquido non è il siero inteso come quel liquidino viscoso che fa su tutto il viso comprati questo qua la vitamina C che male non ti può fare ed è del tutto bio i booster sono un come dice un boost una botta di vita per la pelle sono un un in più di vitamine specifiche per il tuo già l'acido ialuronico fai da te no fai da te non lo so non sia l'acido ialuronico può andare bene se non si hanno particolari esigenze l'acido ialuronico va sempre bene l'acido glicolico aspetta l'acido glicolico non mi piace molto ah un siero buono ce l'ho ce l'ho ce l'ho un siero buono che costicchia però è il siero la vitamina C di Diego dalla palma che io ho usato cocktail di The Ordinary è buonino ecco cocktail di The Ordinary può essere buono per le ragazze molto giovani hai ragione e costa poco allora facciamo mente locale e ordine per le ragazze più giovani 24-30 anni cocktail di The Ordinary siete proprio brave mi seguite bene meglio di me stessa ed è un siero molto molto standard che dà un giusto apporto di idratazione per una pelle che però non è già un po' avvizzita dopodiché dai 30 anni in su potete utilizzare anche il siero alla vitamina C di Diego dalla palma veramente buono 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 ed è il giusto compromesso tra un siero d'attacco che è anche Diego dalla palma ma te lo fa pagare un occhio della testa è un siero già per una pelle che si appresta ad essere matura se poi vuoi il un siero bomba e su tutti questi sieri come base io su tutti questi sieri come base io metto sempre il Florence alla vitamina C su tutti non esiste che la mia pelle allora essenza faccio asciugare anzi io l'essenza la spruzzo e poi la tampono con l'asciugamani non la striscio la tampono tolgo l'eccesso poi metto le goccine di Florence alla vitamina C faccio assorbire si assorbono in un attimo poi metto il siero questo di l'aslo non mi ricordo come si chiama è fantastico io non so se come primo ingrediente abbia l'acido ialuronico so certo che l'acido ialuronico fa benissimo fa benissimo no è partita la linea Fiorenza 24 il cocktail di The Ordinary è il siero più famoso di youtube l'ho provato proprio per quello tra l'altro anche facendo l'ordine su The Ordinary ti arriva dopodomani a casa anche 30 anni sì sì quelle vanno benissimo perché quelle sono un rigenerante per la pelle proprio nutrimento non è qualcosa che ingrassa che nutre in maniera grassa capito nutre in maniera mirata per questo metto l'essenza prima per fare veicolare a maggior ragione è bene il tutto provate questi tre questi sono quelli con cui mi sono trovata proprio proprio bene poi forse ho avuto anche un siero no 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 assolutamente non è nulla delle pozioni di The Ordinary Laura tu quale usi tu usa quella la vitamina C sicuramente e devi provare questo Laslo questo qui di cui parlerò presto troppo fantastico troppo fantastico e poi se riuscite a trovare questa ragazzi io per la notte ve la consiglio moltissimo ora ne sto usando un'altra che mi sta piacendo molto mi sta però è bio e quindi voglio vedere se muta nella profumazione perché cosa succede se un prodotto non ha una formulazione che accompagni la mia andata a dormire buona e costante a me dà fastidio una cosa che uso anche molto nel contorno occhi è la wedding mask di mi viene a dire veleda ma non è veleda eh forza ditelo voi tu tu va bene ve la farò vedere vi farò vedere vi farò una 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 skin care routine aggiornata con i prodotti che mi stanno piacendo tantissimo ve lo farò molto presto so che è off topic perché è una crema ma per l'estate visti chi è fu Fiorenza perché hai ritirato il messaggio qualche domanda anthos propone diversi serie e prezzi contenuti non ho mai provato i seri dell'anthos quello di clinique quello bifasico l'ho provato quello a parte il fatto che scade dopo poco e quindi hai poco tempo per usarlo ah tu dici quello che si inserisce la crema e rescono tutti e due perché ne ha due clinianzu uno dove devi addizionare la vitamina C e hai 14 giorni per usarlo me ne è avanzato un sacco e non ho notato tutte ste come quello di Diego Dalla Palma solo che quello ti dura di più dicevo mascara più volumizzante che conosci l'oltre di Sephora quello con lo scovolino piccolo piccolo allora avevo visto che dici che fai da te sempre qui dicevo visto che dici che da te fa caldo sempre in estate ti consiglio la crema sorbetto rosa chiaro della Claudalie idrata tantissimo e non unge ok grazie quando uso la crema per un periodo di tempo sembra che non hanno più effetto non è una tua impressione ma hanno tutte le creme la pelle si ha sue fa e quindi è bene rotearle le creme non usare sempre le stesse se no anche il principio è attivo non fa più lo stesso effetto il T9 si hai un T9 aggressivo Fiorenza ti viene da piangere ogni tanto a me Alessandra no non più di tanto non ho mai usato Sieri sbaglio non saprei da dove cominciare poi già faccio fatica a trovare creme che mi piacciono perché mi lucido tantissimo per esempio il siero alla vitamina C di Florence tampona questo problema della lucidata e probabilmente se ti lucidi tantissimo ti basta anche solo un siero perché per esempio in estate quando c'è caldo molto spesso utilizzo solo un buon siero perché il siero ha una consistenza leggera di solito ha una consistenza gelosa e liquida che dà un effetto di super assorbimento e lascia la pelle comunque idratata compatta nutrita e spesse volte non senti neanche il bisogno di usare altro allora Fiorenza mascara fantastico ciglia finte X3 Extreme di Estée Lauder costa ma vale non lo so Extreme di Estée Lauder è quello dorato quello con lo scovolino a cono creme e shampoo da cambiare ogni tanto cosa? della Essence il Big Lashes non lo so Big Lashes qual è? io della Essence usavo l'I Love Extreme quello là nero o fucsia sia la vitamina C va bene anche per pelli grasse va bene per tutti dorati con scovolino a cono da il meglio dopo un po' allora è quello che ho anche io è molto più volumizzante l'Oltra Jaws di Sephora cioè io ce li ho tutti e due quelli che stai dicendo tu ed è molto più volumizzante l'Oltra Jaws di Sephora ciao chi sei? Sumaya ciao Paola fa venire punti neri cosa? allora il Sera Vitamina C no no non fa venire assolutamente i punti neri non è grasso non fa venire i punti neri quello nero e giallo sì 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 l'ho provato prova quello fucsia la Love Extreme fucsia è buono anche l'Oltra Jaws di Sephora è quello con la confezione cicciotta sì però con la spirale non quello con le linee dritte ha lo scovolino piccolo piccolo i primi giorni lo odierai perché dovrai imparare ad usarlo perché ha un altro tipo di scovolino ma dopo lo adorerai non potrai io non vedo l'ora di ricomprarlo perché il mio è finito ne sto usando altri perché ne ho altri ma proprio mi manca mi manca infatti non vedo l'ora di fili quelli che ho perché voglio andarla a comprare costa 18 euro puoi trovarlo certe volte in offerta a qualcosina di meno col 20% però devo dire che ha un nero un ultra black che è fenomenale poi quello scovolino riesce ad andare su tutte le ciglia le volumizza e le separa super veramente buono veramente veramente buono basta ci voleva questa chiacchia ombretta invece quest'estate per la base trucco viso cosa mi consigli per un effetto naturale terra fondotinta no guardate io il fondotinta non lo uso quasi mai neanche in inverno fondotinta è la prima cosa che dovete togliere per una bella pelle in estate non lo so per una bella pelle non lo so Firenza in estate vi consiglio una buona crema idratante poi prendete un buon illuminante lo mischiate insieme e vi passate questa crema con un po' di illuminante che vi fa subito luminose se siete abbronzate sta benissimo su quella fate un leggero contouring con la terra poi abbronzatevi naturalmente anche in balcone un po' di blush e il resto veramente molto poco un bel mascara una passata di chiaro sulla palpebra per far uscire lo sguardo il siero di sefora per esempio per esempio per esempio il siero di sefora è anche un buon siero che l'ho finito da poco sono i nuovi sieri con 98% di origine naturale è veramente buono per le pelli più giovani quindi fino ai 35 anni quel siero fa il suo dovere altro siero da appuntare per l'estate il siero non macchia no non macchia il siero alla vitamina C io lo sospendo in estate ma non perché macchi ma perché siccome in estate io mi sciacquo mi lavo in continuazione per me è uno spreco metterlo in questo senso perché proprio io mi lavo il viso e dopo un'ora mi rilavo il viso quindi tolgo su tutto quello che ho messo su però in generale se tu per esempio vai al lavoro e non hai la possibilità di lavarti il viso e puoi stare con su i prodotti usalo perché fa benissimo che tipo di arredamento la tua camera da letto francese la mia camera da letto no l'appone l'appone no la mia camera da letto ha un arredamento misto l'appone siciliano da questa parte che voi non vedete e anche un po' da quella parte queste le abbiamo fatte noi una e due quindi libreria armadio restyling 800 diciamo 800 800 alcune cose autentiche alcune cose in stile oramai saprete la differenza allora te ho risposto stile ombretta sì 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 avete fatto un video sull'estauro della libreria sì Fiorenza sulla composizione della libreria ci sono più video sì sì allora puoi mettere la sera e poi allora puoi mettere la sera e poi crema notte sì se vuoi sì di nulla Fiorenza che ore sono il pane in pasta che mi si sta gonfiando devo proprio andare ciao sumaia un bacio tesoro da voi che si dice pronti per l'uscita però aprono le gabbie raga siamo pronti ma Gabriele stasera non ha fame no ombret style sì ma poi appunto quello che vi piace mettete in generale la mia camera da letto è 800 stile 800 e poi ho messo queste due cose utili perché purtroppo gli armadi 800 non erano non sono capienti e a me serve un armadio guardarubbiere quindi ho preso allora ditemi ditemi siete pronti per uscire come cosa farete il primo il 4 maggio che farete la fitocose sì ma ho preso poche cose nel tempo della fitocose ah Rita tu non vedi l'ora di uscire ah io no non che non veda l'ora di uscire perché uscirò prima purtroppo però non vedo l'ora di uscire nel senso che sono un po' spaventata ho appena letto che chi sta vicino al mare può fare il bagno bisogna definire il concetto di stare vicino al mare perché tutta la Sicilia sta vicino al mare voglio dire non è che io stia lontana dal mare da casa tua si vede il mare allora noi ci faremo uscire tutti neanche anch'io sono spaventata io sto a casa io devo andare a lavorare non è che posso stare a casa però farò lavoro casa lavoro casa vai a trovare tua madre certo noi possiamo Laura stare vicini siamo vicini al mare io sto bene a casa mia mi mancherà il mare non spaventarti tanto le misure di sicurezza non termineranno sì lo so il 4 maggio dopo due mesi mi riunirò finalmente non ci credo Claudia siete rimasti separati no questa è una cosa bruttissima per tutti i fidanzati quindi tutta Catania Laura potrà andare a mare capisci bene che non sarà tanto sicuro oggi ho pubblicato un post questo è il telo che ordinerò su Amazon per tornare a mare era un telo tipo 10 metri per 8 io ricomincerò a ristrutturare casa voglio andare da mia mamma certo io abito tra Milano e Mergamo e francamente sono un po' preoccupata beh io starei un altro pochino a casa fossi in te anche io con il mio che abita 5 minuti da te oh ma siete stati bravissimi io l'avrei nascosto in cantina siete stati veramente molto bravi io non lo so sicuramente tornerò al lavoro perché c'è quel restauro là che mi che mi attende ma quel lavoro e farò patti chiaro cioè quando ci sono io non ci deve essere nessun altro perché non voglio rapporti di socializzazione quel soffitto che ho lasciato a metà che vi facevo vedere su Instagram scorre indietro prima del cos'era prima dell'8 aprile dell'8 marzo e vedrai che ero con le mascherine poi è paradossale io mi facevo le foto con le mascherine prima dell'utilizzo delle mascherine vi ricordate che facevo le foto dal cantiere con la mascherina che poi è diventata una roba quella mascherina ragazzi io la pagai 1 euro e 50 sono riusciti a chiedere pure 70 euro per quella mascherina a saperlo me le rivendevo proprio facevo la sciacalla sì sì scherzo ovviamente scherzo però per dire quanto costavano le mascherine tu scrivi queste cose tu non devi ah una puntualizzazione sul video di ieri su quello dell'homeschooling preferisco stare a casa certo fai bene una puntualizzazione perché ho avuto poi un confronto tra l'altro piacevolissimo e gradevolissimo perché ho capito il suo punto di vista e lei ha capito con un insegnante che dice ma così svilisci il nostro ruolo no ragazzi non era quello il senso del video assolutamente il video sull'homeschooling io l'ho fatto per dire hai una situazione veramente difficile vuoi prendere questa decisione e ho avvertito su tutte le difficoltà che un genitore può incontrare nel prendere quella decisione puoi aiutare il tuo figlio a farlo non ho detto che il ruolo dell'insegnante è subordinato a quello del genitore o che un genitore può sostituire tu cura un insegnante ho anche detto che io stessa dovendo lavorare non me la sono sentita perché non avrei potuto impiegare anche e io ragazzi non lo dico ma io sono anche formata per insegnare alle scuole nel senso che proprio ultimamente ho dato le ultime quattro materie che il ministero richiede per poter accedere alle classi di concorso dell'insegnamento anche a scuola quindi ne so anche di quello ma non ho impostato il mio discorso su io lo so era semplicemente no 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 non è che non era per spicace è che io dicevo che noi possiamo scegliere il bene il libro per il nostro figlio andando dal libraio allora mi diceva allora tu suggerisci di andare dal libraio a scegliere il libro piuttosto che fidarti dell'insegnante no io intendevo che una volta che si è scelto l'homeschooling una volta che non si ha più il supporto di un insegnante devi cavartela da solo perché con l'homeschooling comunque devi cavartela da solo o ti informi con la tua amica che il libro di scuola ha suo figlio oppure se devi scegliere in base alle caratteristiche del tuo figlio vai in libreria ti fai consigliare da quello che è del mestiere qual è il libro più bello più nuovo con una didattica più competitiva li apri vedi se hanno più o meno figure vedi qual è il libro più adatto a tuo figlio e lo scegli ma non volevo dire che i libri che scelgono gli insegnanti non vanno bene di contro però c'è da dire che un libro che sceglie un insegnante è il libro per una classe quindi magari lei bada più alla sua didattica e alla generalità dell'insegnamento un libro che tu scegli per tuo figlio ovviamente puoi sbagliare se sei del tutto incompetente puoi semplicemente scegliere quello che fa proprio al caso di tuo figlio gli insegnanti sono i miei discorsi io ci lavoro con gli insegnanti io stessa sono insegnante in qualche maniera sono una categoria da proteggere non da vessare non da insultare assolutamente da rispettare sicuramente anche quando dico che ogni tot di anni ci dovrebbe essere la revisione delle competenze io non lo dico per andare addosso alle insegnanti badate bene io lo dico perché conoscendo il mestiere lavorandoci a scuola capisco che è un lavoro talmente usurante dal punto di vista nervoso dal punto di vista di impegno di responsabilità che può logorare è logoramento è una cosa che agisce giorno dopo giorno lentamente manco te ne accorgi in dieci anni di logoramento si può molto cambiare dimmi la pizza faccio stasera mamma saluta gli amici del mio canale ciao e quindi e quindi questo volevo solo dire nelle mie parole non ho mai grazie Rita non ho mai 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 voluto peccare di presunzione assolutamente assolutamente era solo un aiuto per chi mi ha chiesto si può fare se si è costretti perché ragazzi quando uno prende la decisione dell'homeschooling di solito ci si sente veramente con le spalle al muro che non si ha la possibilità di fare nulla di differente come il discorso interessava è un argomento nuovo tutto sommato lo stiamo facendo tutti a scuola che ce lo stiamo facendo tutti a casa si lo so grazie ragazzi grazie lo so tu lo pollici in su non è possibile no sono 45 si sa che lo so che il video si capisce però sai quando parti dalla posizione di insegnante magari ogni frase te la puoi sentire sulla pelle e ti senti vilipendiato dalle parole di una che si siede qui lilla lilla fresca fresca e magari lei o chi mi segue è una brava insegnante una di quelle che ci mette l'anima e ce ne sono tante una di quelle che ci crede nel suo lavoro e questo si capiva dai suoi dai suoi commenti quindi lo capisco che lei se la sia sentita un'intervista alla mamma ci sta va bene va bene ora ora la faremo vediamo se la convinco a fare un'intervista come che si mangia sto facendo la pizza che si mangia avete risvegliato l'orco che è in lui ciao Debora comunque io non io ammiro le insegnanti di ogni ordine e grado dalla materna alla vi ho detto anche che mi sembrano assurdi i corsi di formazione per insegnare alle insegnanti come si insegna loro che già lo sanno fare così bene sarebbero molto più interessanti dei corsi di formazione tecnici pratici ciao Gloria che potessero aiutarle veramente nella spendibilità del mestiere non nell'impostazione metodologica che dopo 20 anni un insegnante ha ormai che gli scorre nelle vene quella cosa bene sono una chiacchierona avete visto ma ovvio infatti i corsi vabbè voleva puntualizzare ha fatto bene così abbiamo aperto scardinato ancora un po' quello che era il discorso no io sono molto aperta se è una cosa mi viene detta con educazione garbo io sono ben contenta di parlare di far capire il mio punto di vista senza la presunzione di avere ragione magari poi ognuno rimane della propria opinione magari io cambio idea magari cambio idea lei non lo so però sono sempre aperta al confronto e penso che ragionare con più teste sia sicuramente bello perché ti dà la visione di diversi punti di vista quando invece una persona si chiude non ascolta ragioni non si chiarisce quello mi spaventa quello mi spaventa molto quando è aggressiva quando si sente colpita e allora si chiude il riccio sì Cristina è vero è un po' mestiere devozione è vero quando lo fai bene è così il confronto intelligente sono rarissimi forse sono che non sopporto le puntualizzazioni stupide per carità so che sbaglio forse no non è che ciò che può sembrare una puntualizzazione stupida per te magari è un fraintendimento serio per un'altra persona perché noi ecco non bisogna presumere che là che ci si sia a spiegare tanto bene da farsi capire da tutti o da arrivare sapete la recezione di un concetto dipende anche dal momento in cui ci prende quel concetto magari uno ha avuto una giornata intensa al lavoro ha dato l'anima sta otto ore in didattica a distanza è stanca di qua e di là e magari si prende male anche una critica che non è poi una vera e propria critica ciao giusi bene ma voi siete chiacchieroni come me perché questa cosa che non ci possiamo sentire dovrebbero fare le chat vocali come fanno su zoom che poi uno attiva i microfoni a uno a uno e vi sente tutti è bello è bello anche in quel modo dovremmo pensarci qualche volta un video su zoom così vi sento parlare andiamo a cena Rita tu sei con mare di Gabriele ho capito ho capito tu lo sei Laura no tu chiaccherona ma quando mai allora è vero è vero bene ragazzi io vi saluto tutti vi mando un grande bacio però ho una bella presenza Rita vi mando un grande bacio non so se domani mi affaccerò forse domani ancora sì da lunedì lunedì sicuramente credo di no martedì forse mercoledì giovedì no non credo tenete le dita tanto 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 incrociate tanto 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 incrociate e e basta e noi ci vediamo spero quando andrà tutto alla grande domani ricetta su due quale una k lunedì video su arte per te e poi vi manderò sempre altri video va bene certo forza sempre mano di nulla grazie a voi per esserci stati vi voglio bene tu vuoi bene loro ciao toro seduto la vi saluta vi mando un grande le bacio la lezione del primo anno la lezione del primo anno la faccio va bene non vi preoccupate giovedì sera ragazzi dovessi avere qualche problema scusate primo anno dovessi avere qualche problema speriamo di no perché se non ho qualche problema vuol dire che è andato tutto bene se ho qualche problema ve lo dico e la posticipiamo ma speriamo di poterci essere va bene i vostri compiti comunque li correggo in caso non riuscissi a collegarmi in diretta o vi faccio un breve video e ve lo lascio su facebook oppure posticipiamo al giorno dopo o a due giorni dopo ma io spero di poterci essere rimaniamo che ci vediamo e speriamo in tal senso ok un grande bacio a tutti ciao